nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen recitiamo oggi il terzo rosario in onore di maria regina della pace in questa che è una novena di preghiere di rosario chiesto dalla madonna proprio a me giugorio recitiamo oggi i misteri del dolore o dio viene a salvarci signori vieni presto il nostro aiuto gloria al padre al figlio allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen è per amor tuo gesù per la conversione dei poveri peccatori per la pace nella nostra vita nella nostra famiglia nei nostri cuori e nel mondo intero vieni spirito santo vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di maria io credo in dio pare onnipotente creatore del cielo e della terra in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crucifisso morì fu sepolto discesa agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo sieda alla destra di dio padre onnipotente di là verrà giudicare i vivi e morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne la vita eterna amen maria regina della pace prega per noi nel primo mistero contempliamo l'agonia di gesù nell'orto degli olivi cari figli anche oggi vi invito a pregare per la pace pregate per la pace nel mondo pregate per la pace nelle vostre famiglie grazie cari figli perché avete risposto alla mia chiamata padre nostro che sia nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà cominciò le cose in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne è 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 benedetta il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della della nostra morte è con te ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne è 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 benedetta fra le donne est secondo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Cari figli, sono venuta a voi e mi sono presentata come Regina della Pace perché mi manda mio figlio. Desidero, cari figli, aiutarvi, aiutarvi affinché venga la pace. Ma ho detto così tante volte e ho ripetuto a tutti voi, miei figli. Io ho bisogno di voi, cari figli. Io con voi posso realizzare la pace. Perciò anche oggi vi invito, pregate per la pace. Pregate per la pace nel mondo. Pregate per la pace nelle famiglie. Riportate la preghiera nelle vostre famiglie. E mettete Dio al primo posto nelle vostre famiglie. La madre prega insieme con voi ed intercede per tutti voi presso suo figlio. Pregate, pregate e perseverate nella preghiera. Grazie per aver anche oggi risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di spine. Cari figli, vi porto mio figlio Gesù che è il re della pace. Lui vi dona la pace, che questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell'umiltà. Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia presenza è segno dell'amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l'eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero contempliamo la Via Crucis di Gesù fino al Calvario. Cari figli, in questi tempi inquieti, io vengo a voi per mostrarvi la via verso la pace. Vi amo con amore immenso e desidero che anche voi vi amiate l'uni e gli altri e che in tutti vediate il mio figlio, l'amore immenso. La via verso la pace passa solo, solo tramite l'amore. Date la mano a me, alla vostra madre e permettetemi di guidarvi. Io sono la Regina della Pace. Vi ringrazio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno. Sia fatta la tua volontà, cominciare così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero contempliamo la crucifissione e morte di Gesù. Sono venuta per dire al mondo Dio esiste, Dio è verità, solo in Dio c'è la felicità e la pienezza della vita. Io mi sono presentata qui come Regina della Pace per dire a tutti che la pace è necessaria per la salvezza del mondo. Solo in Dio si trova la vera gioia dalla quale deriva la vera pace, perciò chiedo la conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi, misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non dispezzare le suppliche, di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine, gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu un nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli, e tu, principe della miscia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana, e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo, per perdere le anime. Amen. Litanie della Dolorata Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre del Crocifisso prega per noi, Madre dolorosa prega per noi, Madre lacrimosa prega per noi, Madre afflitta prega per noi, Madre derelitta prega per noi, Madre desolata prega per noi, Madre del figlio privata prega per noi, Madre della spada trafitta prega per noi, Madre dei travagli immersa prega per noi, Madre di angustia ripiena prega per noi, madre col cuore alla croce confitta prega per noi madre mestissima prega per noi fonte di lacrime prega per noi cumulo di patimenti prega per noi specchio di pazienza prega per noi rupe di costanza prega per noi ancora di confidenza prega per noi rifugio dei derelitti prega per noi difesa degli oppressi prega per noi rifugio degli increduli prega per noi sollievo dei miseri prega per noi medicina delle unguenti prega per noi forza dei deboli prega per noi porto dei naufraghi prega per noi quiete nelle procelle prega per noi ricorso dei piangenti prega per noi terrore dei demoni prega per noi tesoro dei fedeli prega per noi luce dei profeti prega per noi guida degli apostoli prega per noi corona dei martiri prega per noi sostegno dei confessori prega per noi perla delle vergini prega per noi consolazione delle vedove prega per noi mare degli orfani prega per noi prega per noi prega per noi agnello di dio che togli i peccati del mondo perdona ciò signore agnello di dio che togli i peccati del mondo ascoltaci il signore agnello prega per noi prega per noi prega per noi prega per noi santamare di dio per essere resi degni delle promesse di nostro signore gesù cristo amene l'eterno riposo dona loro signore splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace amen l'eterno riposo dona loro signore splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace amen angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci regge governa a me che ti fui affidato dalla pietà celeste amene recitiamo un'ultima ave maria per le intenzioni della madonna ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen grazie per aver pregato con noi grazie perché con il cuore siamo tutti lì su quella montagna sul proberto dove la vergine maria ci ha chiamati a pregare in questi giorni il santo rosario dalle 22 ogni sera fino alle 23 e 30 la vergine maria siate nei certi ogni giorno è più felice perché la risposta questa chiamata è mondiale immensa tutti stanno rispondendo tutti stanno pregando come noi affinché arrivi la pace nel mondo continuiamo ora la nostra preghiera personalmente affinché possiamo far arrivare al cielo quante più preghiere quante più ave marie possibile grazie a tutti nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ame grazie per aver guardato il figlio e dillo spirito santo ame grazie a tutti